La filiera dell'olio d'oliva, opportunità di sviluppo e prospettive di mercato. L'associazione Olivicola Crotonese, guidata da Gaetano Potenzone, ha messo attorno allo stesso tavolo tanti produttori ed esperti per un focus sull'argomento. Il settore nell'economia regionale è un peso importante che crea sviluppo e genera occupazione. Parliamo di un settore importantissimo, con oltre 100 e passa 1000 aziende impegnate in questo settore, però quello che deve essere presente è che non sono soltanto il valore semiconsentito e volgare economico, ma in Calabria ha una rilevanza sociale l'olivicoltura. Quindi su questo bisogna riflettere attentamente e questo abbiamo un tavolo aperto con l'assessore alla regione Calabria che devo dire sinceramente che è molto attento su queste problematiche e ha una capacità d'ascolto non indifferente. Di livello l'intervento di Ermanno Comegna, esperto di politiche comunitarie. Ha lui il compito di intervenire sulla nuova PAC. Nella prossima programmazione ci sarà maggiore attenzione all'impresa Olivicola e quindi agli investimenti delle imprese Olivicole. Per quanto riguarda invece i sostegni della PAC ai singoli olivicoltori, diciamo che purtroppo, ma questa è la realtà e non possiamo dire altrimenti, i pagamenti diretti della PAC per gli olivicoltori professionali specializzati delle aree ad olivicoltura moderna come quella di Crotone, ci sarà qualche sacrificio in termini di pagamenti diretti. All'iniziativa grottonese ha dato il suo fattivo contributo anche Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola. Fare sistema, costruire cooperative, fare gli OP, perché solo insieme possiamo affrontare il futuro. Per quanto riguarda il PNR, ci sono programmi importanti, finanziamenti importanti per la sistemazione dei frantoi, innovazioni perché la qualità, il mercato vuole la qualità e quindi bisogna utilizzare questi finanziamenti per migliorare a livello strutturale la trasformazione per conquistare i mercati.